Domani all'Ipsia, l'Italia sfiderà nella terza e decisiva gara del girone di 2024 euro la Croazia. Gli azzurri sono arrivati oggi nella città tedesca dove Luciano Spalletti ha parlato alla stampa alla vigilia della gara in conferenza. Prima della conferenza stampa, il Citi Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport, è una partita molto importante, non dobbiamo pensare che ci basti il pareggio. Si può cambiare un elemento, ma non l'idea. Io sto più tranquillo quando la palla ce l'abbiamo noi e sto più in pensione quando ce l'hanno gli altri. Poi a volte siamo costretti a subire il gioco degli avversari, è chiaro. Scamacca o retegui contro la Croazia? Scamacca è un giocatore più estroso, ti puoi aspettare qualsiasi numero da lui, compreso l'errore che non ti aspetti su una palla di facile gestione. Gianluca è più istintivo ed estroso sulle giocate, mentre retegui è più lineare. Quando gli dai la palla da sfruttare, è difficile che la manchi. Sono due calciatori forti, senza dimenticare Raspadori che è bravissimo a legare con la squadra ed è molto forte tecnicamente. Che Croazia si aspetta domani? Me l'aspetto col 4-3-3. I croati saranno costretti a sbilanciarsi come nella gara contro l'Albania, dove hanno attaccato all'arma bianca. Parliamo di una squadra fortissima dal punto di vista tecnico e nella ricerca degli spazi in campo. La conferenza stampa di Luciano Spalletti.Questa squadra ha la mentalità per destini forti? Ci sono partite che la tua storia la fanno diventare piccola o grande, è da questa sfida qui che poi si hanno dei risultati importanti su quelle che sono le proprie storie. Noi abbiamo fatto delle scelte perché siamo convinti di avere a che fare con giocatori forti, quando sono andato nei ritiri a parlare a tutti in loro ho visto la loro voglia di partecipare, di esserci. E questa loro disponibilità, questa loro voglia, va a tradursi nell'essere disponibili a giocare queste sfide.